Ciao a tutti e benvenuti di volta sul mio canale! Oggi vedremo le top 10 missile ballistiche Aggiungiamo! Il primo submarino della lista è il cinesio Type 092 È abbastanza difficile trovare video su questa macchina e anche la prossima che vedremo pronto Quindi dovete essere pazienti, poi vedremo alcuni video Il submarino è entrato in servizio nel 1987 Non è così grande In realtà il displacimento è circa 8000 toni e la lunga è solo 121 metri È portato da un reattore nucleare presurizzato in acqua e può ottenere una velocità di circa 22 nodi L'armamento di questo piccolo bambino è 12 SLBM con un termonucleare warhead con una potenza di 500 kt In total abbiamo 6 megatons Il 9 suburbino in liste è l'Indian Arihant class Il 9 suburbino in liste è l'Indian Arihant class Questo è stato lanciato nel 2009 È un molto nuovo suburbino e l'ultimo più grande è stato in 2018 Il lungo di questo bambino è 130 metri e il displacimento è solo 7.5 toni anche questo non è così grande ma non preoccupate è ancora molto potente può ottenere una velocità di 24 nodi e come le altre la velocità non è limitata L'armamento di questo è 24 SLBM Inoltre abbiamo un termonucleare warhead con una potenza di 500 kt La potenza di potenza di questo bambino è 12 megatons La prossima macchina è un altro cittadino il Type 094A L'armamento in 2006 non sappiamo quando hanno produrato questa submarina hanno pensato di costruire 8 di queste macchine ma fino adesso solo 4 di queste sono completate Il displacimento questa volta è molto più alto abbiamo 11.000 toni e 133 metri può ottenere una velocità di 23 nodi la velocità è sempre non limitata e è potente da un reattore nucleare Questa volta l'armamento è molto più avanzato abbiamo 12 SLBM e ogni uno di questi può fare 1-4 termonucleare warheads il range di questi sono 8.000 km e ogni warhead ha una potenza di potenza di 150 kt il total potenza di potenza di potenza di 12 megatons La settimana posizione è il progetto russiano 667 è stato prodotto nel 1974 e l'ultimo commissionato è stato commissionato in 1982 il plan è 14 di loro uno è ancora attivo 13 di loro sono decommissionati la lunga è 155 metri e il displacimento è 13.7.000 toni è portato da due reattori nucleari e ha anche due propelleri uno per l'EH nucleare può ottenere una velocità di 24 nodi e l'armamento è 16 SLBM ogni uno di questi può fare 4-12 termonucleare warheads l'EH warhead ha una potenza di potenza di 100 kt il range è circa 9.000 km con una velocità di macch 22 il total potenza di potenza di potenza è 19.2 metri At la 6 posizione abbiamo un altro russiano il progetto 677 è stato prodotto in 1981 e lanciato in 1984 hanno prodotto 7 di loro e tutti stanno in servizio la lunga è 167 metri e il displacimento è 18.2 toni questo è stato prodotto da due reattori nucleari e la propulsione è dato da due propelleri può ottenere una velocità di 24 nodi e il range è ancora unimitato il progetto 677 può fare 16 SLBM ogni di loro ha 4-10 termonucleare warheads l'EH warheads ha 100 kt con una potenza di potenza di 16 megatons il range è 8.000 km con una velocità di macch 22 e ancora abbiamo un altro russiano submarino il progetto 941 Aquila è anche chiamato come il Typhoon è stato prodotto in 1976 hanno prodotto 7 di loro uno è attivo l'altro non è attivo la lunga è 175 e il displacimento 48.000 toni in questo momento è ancora il più grande submarino del mondo è stato prodotto da due reattori nucleari con due propellers il range è sempre unimitato e la velocità è 27 nodi l'armamento è 20 SLBM ogni uno ha 6-10 termonucleare warheads H warheads 150 kt in questo momento il totale di potenza di potenza è 30 megatons il range di questi missili è 9.000 km con una velocità di Mach 24 in la quarta posizione abbiamo la classe Trionfante è stato prodotto da 1986 e l'ultima prima è stato prodotto da 2010 hanno planato 4 di loro e tutti i suoi sono stati la lunga di questo submarino è 138 metri e il displacimento è 14.3 toni è stato prodotto da un reattore nucleare e la propulsione è dato da un propulsore progetto il range è sempre unimitato e può ottenere una velocità di 25 nodi l'armamento è 16 SLBM ogni uno di loro ha 6-10 termonucleare warheads i warheads hanno una velocità di 150 kt con una velocità di velocità di 24 megatons il range dei missili è 10.000 km con una velocità di Mach 25 e ora possiamo cominciare il top 3 con il progetto 955 Borei da Russia è stato prodotto nel 1996 e lancato nel 2008 hanno planato 14 di loro e 3 sono già attivi il displacimento del Borei è 24.000 toni e la lunga è 170 metri e anche questa volta la propulsione di questo submarino è dato da un sistema di pump jet il range è unimitato e la velocità è più di 30 nodi questa volta l'armamento è 16 BULAVA SLBM con 6-10 termonucleare warheads ogni warhead ha 150 kt una velocità di 9.000 km e una velocità di Mach 24 il totale di questo submarino è 24 megatons in il secondo spot possiamo trovare l'United Kingdom Vanguard class il submarino è stato lanciato in 1992 e l'ultimo commissione in 1999 hanno planato 4 di loro e tutti sono attivi la lunga della Vanguard class è 149 metri con un displacimento di 15.9 toni è powered da un nucleare e la propulsione è disponibile di un sistema di pump jet la velocità è più di 25 nodi e l'armamento è 16 SLBM trident 2 e l'unica ha 8-12 termonucleare warheads e 120 kt il range è più di 12.000 km e la velocità di 24 il totale di firepower è 23.1 megatons e ora finalmente il primo e migliore l'United States Ohio Submarine l'United States Ohio Submarine è stato prodotto in 1976 e l'ultimo commissione in 1997 hanno planato 24 di loro e 18 sono attivi la lunga è 170 metri e il displacimento è 18.7 toni può ottenere una velocità di 25 nodi e la propulsione è dato da una standard propella l'armamento è 24 SLBM trident 2D5 l'unica ha 8-12 termonucleare warheads il warhead ha una velocità di firepower di 475 kt una velocità di 12.000 km e una velocità di Mach 24 questa volta il totale di firepower è insana 136.8 megatons e in questo momento questo è assolutamente il migliore nucleare del mondo l'unico 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 è il migliore e il migliore se avete piaciuto il video ricordatevi a thumbs up e vi ringrazio se non ci sono ancora e ci vediamo in un nuovo video Bye Ciao 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 Ciao